Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi sabato e ho deciso di parlarvi un po' dell'ultimo Maxitex che è uscito proprio in questi giorni. Vi faccio vedere bene questa cover. Sono esattamente 292 pagine, due storie complete e inedite. Prezzo di copertina 9,90€. Il titolo La città che scorta è il titolo del primo racconto che è quello principale e anche quello più lungo e poi trovate un racconto più breve che trovate all'interno che adesso vi dirò il titolo dell'altro con tutti i crediti. Vi ricordo semestrale quindi ogni due anni e in quarta di copertina troviamo un breve riassunto di quello che troviamo all'interno e la consueta quarta di copertina che è tratto da una da una vignetta che trovate qui all'interno. La cover di Claudio Villa ve la faccio ancora vedere così molto molto bella. Io l'ho acquistato l'altro giorno e me lo sono letto tutto nella giornata di ieri e devo dire che ha un ottimo Maxitex. Vi leggo i consueti crediti. Allora La città che scorta, soggetto e sceneggiatura Claudio Nizi, disegni Rodolfo Torti, letteri Renata Tuis. Secondo racconto l'aleato misterioso, soggetto Fabio Civitelli, sceneggiatura Antonio Serra, disegni Patrizia Mandanici, letteri Omar Tuis. Allora il primo racconto inizia con il classico assalto alla dirigenza per via di questi quattro mascherati vestiti da messicani e poi ci accorgeremo che sotto i panni di questi bandidos ci sono invece i nostri parts Tex Wheeler, Kit Carson, Tiger Jet e Kit. Quindi l'inizio abbastanza un po' insomma inconsueto da quello che di solito andiamo a leggere. Che cosa è successo qui? Tex e i suoi par liberano un ragazzo che era in questa diligenza che stava andando verso, per essere giustiziato. Infatti che facevano da scorta c'era lo sceriffo di questa cittadina con i suoi dice. Questo ragazzo Red, Red Buster, è figlio di un amico di Tex, un amico di vecchia data che anche lui era un ranger e quindi Tex è corso in aiuto di questo suo amico che che lo aveva contattato e aveva raccontato che cosa stava accadendo. Leggendo poi andando avanti sapremo, verremo sapere che questo ragazzo era accusato ingiustamente di un omicidio e che era destinato ad andare sulla forca, gli avevano fatto un processo piuttosto così alla bella e meglio e il padre, il padre del ragazzo racconta a Tex che domina in questa piccola città c'è una famiglia, la famiglia che poi è la famiglia del sindaco con i suoi figli e tutti questi hanno un punto, comandano chi ha magari una grossa fattoria, un altro figlio che ha una miniera d'argento e poi c'è anche un altro figlio che invece ha una banca e quindi tutta la famiglia comanda, comanda questa piccola cittadina tenendo sotto sotto il loro comando i cittadini e poi avendo anche la possibilità di avere tanti soldi possono anche pagare degli uomini per far quello che vogliono. insomma tutti abbastanza corrotti quindi Tex si troverà in questa cittadina a dover cercare di risistemare un po' un po' le cose. Questo sindaco si chiama Crandall che è un sindaco prepotente che è il padre di questi suoi figli che sono quelli che comandano insieme a lui e Tex oltre a liberare questo ragazzo, il figlio di questo suo amico, andrà anche di persona per conoscere anche come stanno le cose, andrà addirittura di fronte a questo sindaco piuttosto un sindaco molto prepotente con delle idee molto di comando e basta che vuole solo comandare e scoprirà che tutti i suoi figli sfruttavano le persone, tenevano i soldi tutti per sé, quindi tutti i cittadini dovevano stare sotto a questa famiglia. Ovviamente con l'arrivo di Tex le cose cambieranno. Un bel racconto devo dire dove c'è molta azione, c'è un po' all'inizio, un po' di insomma bisogna un po' leggere perché come sempre c'è l'incontro con il suo amico che gli racconterà un po' quello che sta accadendo, quindi c'è da leggere un po' l'inizio, ma poi bene o male la storia parte e va abbastanza bene scorrevole. Vi faccio vedere un po' le tavole. Queste sono le tavole che trovate nel primo racconto. Eccole qui. vediamo Tex che va a parlare con il suo amico, il padre del ragazzo che ha liberato e poi insieme scogiteranno un piano per poter mettere a posto le cose in questa cittadina. Vediamo un po' se c'è qualche altra tavola da farvi vedere. Ecco qui una bella carrellata di azione dove c'è Kit Carson che con la sua mira infallibile addirittura spara senza colpire neppure, neanche non li ferisce, gli porta via la rivoltella dalla mano. Poi c'è anche qualche tavolo un po' più spettacolare tipo questa dove c'è la miniera che vi avevo accennato, questa miniera di argento che usa i messicani, li sfrutta, pagandoli tra oltre trattandoli male, pagandoli quasi niente e li sfrutta a proprio piacimento per estrarre questo prezioso metallo. Quindi una bella storia devo dire che praticamente tiene quasi tutto questo maxitex e poi dopo alla fine c'è questo racconto molto più breve che adesso vi faccio vi faccio vedere ecco qui dov'è dov'è adesso ci sto arrivando piano piano. Allora l'aleato misterioso eccolo qui qui è l'inizio di questo mini racconto infatti molto molto breve però anche bello questo dove c'è Tex che si reca anche qui da un suo amico che è sceriffo in questa in questa cittadina gli comunica che ci sono dei una banda che una banda che assalta e quindi molto pericolosa. Tex decide di indagare per cercare di acciuffarli quando poi invece scoprirà dove lui in questo in questo albergo dove lui ha deciso di alloggiare insieme a Kit Carson farà, incontrerà uno strano personaggio che si presenterà durante la notte e Tex rimarrà, ecco qui ve lo faccio vedere, uno strano leato. Avrà questo incontro con questo strano personaggio che gli da delle informazioni molto preziose che gli saranno utile per catturare e acciuffare questi criminali salvo poi che poi alla fine ci sarà una bella sorpresa devo dire che è un racconto un po' diverso dal solito. Non voglio svelarvi altro perché alla sorpresa vale la pena leggere tutto fino alla fine perché il finale davvero molto ma molto bello. Le tavole vi faccio ancora vedere molto belle, bellissimi questi disegni, devo dire che qui si è fatto un ottimo lavoro, complimenti perché mi sono piaciuti, se devo essere sincero, mi sono piaciuti di più i disegni di Mandanici che i disegni dell'altro racconto. Vediamo un po' se c'è qualche altra tavola da farvi vedere. Ecco qui, guardate, molto il paesaggio, davvero tutto ben disegnato dove c'è questa baracca. E niente, un racconto breve ma molto bello anche questo che con un finale, come vi ho già detto, un finale davvero che sarà davvero sorprendente. Bene, questo maxi test devo dire che mi è piaciuto molto, due bei racconti, il primo molto ma molto bello, anche il secondo quindi vale la pena la spesa, 9,90 euro, sono 10 euro, quindi quando acquistiamo questi maxi test pensiamo sempre, speriamo che sia bello, con test, bene o male, si va quasi sempre sul sicuro, quindi i maxi test sono sempre molto consigliati perché si trovano sempre delle bellissime storie all'interno. 9,90 euro ben spesi perché all'interno trovate due belle storie che vi faranno passare un po', insomma io l'ho letto comodamente quindi ci ho passato più di un'ora però devo dire che vale la pena l'acquisto. Ok, questo era tutto, ho voluto fare questo video perché magari c'è qualcuno che è un po' indeciso per l'acquisto, magari cercava di vedere qualche video opinione su questo nuovo maxi test. Se vi piace il test oppure cercate un numero, un qualcosa da leggere test, non siete lettori che lo leggete sempre ma lo volete solo ogni tanto, correte in edicola perché 10 euro, 9,90 euro sono ben spesi. Bene, questo era tutto, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo prossimamente qua nel mio canale. Ciao! 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 Ciao!